Benvenuti, mi chiamo Gianluca Guidolin e sono un consulente assicurativo. Che cos'è l'RC familiare? Possiamo definirlo in maniera volgare un ampliamento di quello di cui abbiamo parlato nel precedente video, ovvero la legge Bersani. L'RC familiare è stata introdotta a partire dal 16 febbraio 2020. Permette, rispetto alla legge Bersani, di usufruire della classe di merito di un altro veicolo anche al momento del rinnovo di una polizza già esistente. Mentre prima del 2020 questo beneficio valeva solo per veicoli appena acquistati, nuovi usati che fossero. Si può sfruttare questo nuovo decreto solo se l'attestato di rischio dell'assicurato non include sinistri con responsabilità esclusiva, paritaria o principale negli ultimi 5 anni. L'ulteriore vantaggio, oltre a quanto detto in precedenza, è che è possibile utilizzare e trasferire la stessa classe di merito anche tra veicoli che non siano della stessa tipologia, come ad esempio auto con moto e viceversa. Grazie a quest'ultimo cambiamento viene aumentata la possibilità di poter utilizzare la miglior classe di merito all'interno del proprio stato famiglia e quindi di poter risparmiare anche sulla propria polizza. Ripeto sempre che prendere la stessa classe di merito da un altro veicolo non vuol dire assolutamente pagare lo stesso premio assicurativo. Grazie dell'attenzione e seguimi per altre curiosità sul mondo delle assicurazioni.